guarda un po' non riesce a vedere lo spostiamo no no non è anche perché è piaciuto è infatti è super il vero monitor infatti come è anche per una volta adesso come le pro stiamo spiegando quando io cercherò di farti dei segni è sono anche me anche me serve girarli Non ci vuole la sigla Non avete fatto una sigla Ma chi è responsabile di questa sigla Nessuno fa le sigla Non ci vuole la sigla, però appunto il sugo Cantate, cantate qualcosa Pazzate qualcosa Pazzate qualcosa Stiamo magari sentendo un prezzo Ma no, non abbiamo più cose Non ci sentiamo bene Quando possiamo partire partiamo Ma va bene Allora È uscito Soledda Sconfitta Il primo album solista di Massimo Zamboni Che poi è solista solo fino a un certo punto Perché comunque ti sei contornato Di una serie di persone Più o meno riconosciute del panorama musical italiano Più o meno indipendenti È uscito per Aglio Fandango qualche tempo fa Fino a poco tempo fa Fino a poco tempo fa Quando hai finito la tua prima parte La carriera di musicista Iniziato la tua carriera di scrittore Non sembrava possibile un ritorno alla musica inizialmente Ma ti ha dominato questo ritorno all'ascolto Allo scrivere parole Per farle cantare O per cantarle Buonasera Buonasera innanzitutto Ho deciso di avere un ruolo Io non la chiamo carriera Pubblico però devi farne i conti Hai fatto i conti in bene prima È giusto che ti faccia i conti Con il negativo dopo Allora è stata quasi una fortuna Che io mi sia messo a scrivere Perché questa cosa mi ha aperto di colpo Un altro campo Non confrontabile con quello che c'era prima In sostanza Mi ha fatto misurare con delle parole Non con delle musiche E con tutta un'altra serie di strutture Di luoghi, di persone, eccetera eccetera Anche di interesse Perché chi scrive sa benissimo Che non avrà mai Tranne alcuni casi infortunatissimi La stessa rispondenza di chi suona È un esercizio molto più solitario E di numeri molto minori da scrittura Allora, scusate Ho cominciato a pensare a scrivere E poi a scrivere immediatamente In realtà già nello scrivere Era tornata a funzionare Qualche cellulina musicale Perché poi io mi rendo conto Che scrivendo Non ho bisogno tanto della storia da narrare O della narrazione di per sé Ma ho bisogno del ritmo della narrazione Tutte le parole che sono uscite Sono uscite in base a delle musiche narrative Molto più che ha una finalità di storia Di racconto Come succede di solito E queste cellulina musicale Hanno cominciato ad attivarsi In sostanza Evidentemente la scrittura di per sé Non bastava Poi c'è stata tutta una serie di concomitanze Fortunati Mi sono state proposte Tre colonne sonore Come mai è successo prima Per il cinema Tutte nello stesso periodo Tutte e tre con un argomento Sviluppato diversamente Ma tutte e tre Hanno a che fare con l'idea di sconfitta Dei protagonisti Dei loro Di questi film I primi erano un documentario Sugli alpini All'epoca della loro Dramatica Drammaticissima Ritirata dalla Russia Nel 43 Le altre storie Sono storie molto più piccole Di persone Giovani Di ragazzi insomma Che avevano Dovevano subire le loro prime sconfitte Molto pesanti Allora ho cominciato a ragionare Su questa idea della sconfitta Dovendo comporre le colonne sonore Ho cominciato anche a ragionare sulla musica Lì c'era un ottimo alibi Che quando fai una colonna sonora Sei tu che fai la musica Ma in realtà la fai per conto di altri Devi vestire il panno di altri C'è un regista che ha un'idea Ci sono degli attori Che hanno bisogno Di essere interpretati anche musicalmente Ma non è la tua musica Non è il tuo cd È un'altra cosa Questo è stato un paramento molto utile Poi finito queste colonne sonore Le musiche sono rimaste Ho cominciato ad uscirne anche le parole Ho cominciato ad uscire Tutto quello che era rimasto fermo Per tre o quattro anni E che non aveva ancora trovato lo sbocco Finchè ho pensato Che era proprio ora Di fare un cd in sostanza Di assumere questi sconfitti Che avevo visto attorno In questi film su di me Aggiungere la mia Buttare fuori le parole Che non volevo tirare fuori prima E uscire Come dire personalmente In maniera molto evidente Questo per me è stato un grosso salto Anche qua non lo considero un salto di carriera È proprio un salto intimo mio personale L'idea di esporsi in prima persona Non è una cosa così scontata Per me non lo era insomma Sì Una cosa tra l'altro Abbastanza particolare Per il panorama italiano È che hai scelto probabilmente Anche la più difficile Per un disco d'esodio Nel senso che hai quattro voci Quindi quattro collaborazioni differenti È un disco che è nato tra Vila Miozzo E in parte registrato anche a Praga Da Saro Cosentino Che fu collaboratore di Batti Alto E anche del Consorzio Ha fatto parlare di sé La grafica di tutti questi elementi È venito al comitante degli Usmano Cioè C'è un insieme di persone Che hanno lavorato A questo disco Che rendono omogeneo Cioè Di per sé era difficilissimo Com'è nata questa omogeneità Ma a un certo punto Ho avuto questo problema Quando cominciavano uscire le canzoni Mi rendevo conto Che qualcuno Avrebbe dovuto interpretarle Prima o poi Io ero abituato a ragionare Con una voce Quella voce non c'era più Allora È molto importante Al di là Ci sono tantissimi bravi cantanti Ma il problema Non è trovare Chi canta bene una canzone Il problema è Chi è capace di assumere Queste parole su di sé Perché non sono parole leggere Allora Mi rendevo conto Che non ci potrebbe essere Una persona sola Perché si sarebbe dovuto Identificare con me Così fortemente In maniera così Stretta Da essere un altro Per me stesso Questo è veramente Sarebbe stato impossibile E per fortuna Mi è venuto in mente Che le voci giuste Erano voci femminili E non maschili Prima perché Sarebbe stato molto più Pesante il paragone Con il passato No? Ma poi non era solo questo Perché ci sono tutte parole Apparentemente molto forti Ma in realtà Nascevano da una situazione Di fragilità Altrettanto forte Sono parole che Nascono da una situazione Molto Come dire Molto difficile Sostenere per me Le voci femminili Mi sembrava molto più adatte A esprimere questo doppio binario No? La forza delle parole però Essendo anche capace Di accudirlo Di capire qual era Il loro lato debole Minore Che io considero Altrettanto importante Secondo me la voce maschile Avrebbe capito solo il lato forte Di queste parole Quasi Come se fossero dei proclami Ma questa non era assolutamente La mia intenzione Allora Ho cominciato a pensare Che ci deve essere più Di una cantante Dovano essere sicuramente donne Ho cominciato a ragionare Su chi poteva essere Mi è tornato in mente Lalli Che ho conosciuto Un 18 anni prima Una sera Per caso Poi non ci eravamo mai Più risentiti Mi è venuto in mente Nada Che anche lei Avevo sentito Il suo ultimo CD Non ci conoscevamo Insomma Una buona idea Che avrebbe potuto Cantare in questo modo Stavo cercando Una soprano Una voce lirica E casualmente Un contratto marina apparente Casualmente Fiamma È venuta a casa mia Un giorno Per tutt'altro motivo E io cercavo Una voce molto giovane E molto fresca Come intenzione Per interpretare Un paio di canzoni Lei era perfetta per questo Per cui Non è che sia stata Una gran ricerca In realtà Io sono stato fermo Ad aspettare I segnali che arrivavano I segnali sono arrivati Per fortuna Poi rendere omogeneo tutto Io credo che l'idea Di sorella sconfitta Di per sé Si è abbastanza forte E da omogenizzare Il contenuto del CD C'è questo L'omogenità E devi cercare A quel livello Secondo me Saro cosa ti chiede invece? Con Saro ci conoscevamo Da un po' di anni Perché paradossalmente Avevamo prodotto Noi come Dischi del Mule Il suo primo CD Che è riuscito in Inghilterra L'avevamo portato noi In Italia E ci eravamo rimasti Molto simpatici Ci eravamo anche I promessi di lavorare insieme Saro è una persona Molto gentile Molto cordiale Con cui A me piace lavorare Che dopo 20 anni di litigio continui Con CCCP C'è il lode e gloria Allora è il nostro modo di lavorare Perché quelle canzoni Sono uscite da quegli scontri Però adesso Non avevo più voglia di queste cose C'avevo voglia di pensare ad altro Saro me l'ha concesso In realtà con Saro È molto facile lavorare Perché è una grossa cultura musicale Di manipolazione delle macchine Molto capace di lavorare sulle voci Sugli archi Sugli arrangiamenti E quindi ci siamo Lui è stato il mio vero contraltare insomma Ma perché uscire con la sconfitta Cioè dopo comunque Una vita musicale Comunque anche a livello artistico Con la scrittura Più che soddisfacente Come mai Un altro tipo di pupo nei testi Beh un po' perché sono diventato grande Probabilmente nel corso degli anni Questo capita a tutti È capitato anche a me Ho voglia di riflessione E poi Della verità Io trovo la Vittoria Un'idea Molto più imbarazzante Che negativa Non mi piace assolutamente Mi sembra Tutto questo sbagliare Le vittorie Che vedo Sia nella pubblicità Come nel mondo politico Come questo obbligo di successo Come la carriera Come tutto quanto In realtà Lo trovo abbastanza risibile Oltre che è detestabile Mi sembra che Sia una gigantesca tuffa Il nostro mondo in realtà È molto più retto dalle sconfitte Non solo nostre personali Ma in realtà proprio del mondo Sono costitutive Molto più di queste vittorie Millantate Allora io volevo Cercare di ragionare in profondità Sul nostro mondo E volevo farlo In un contesto Che fosse Altrettanto profondo La sconfitta Mi sembrava un punto Di partenza Su questa Hai provato a scrivere testi Dopo hai scritto due libri Hai trovato comunque Le difficoltà Ne hai trovato una parola Più secca Più semplice Diciamo Semplice In alcuni aspetti Ma a dire la verità Mi sembra più difficile Scrivere i libri Perché già il testo Ha un ottimo supporto Che è la musica Quindi L'importante è cercare Di rilasciarsi sulla musica Capire quello Il tipo di testo Che può essere sopportato Da quella musica E dopo l'altro grande problema È quello di concentrare le parole Di limare continuamente Io non sono cantautore Non racconto storie dall'esterno O narrazioni di altri Cerco sempre di Raccontare storie dall'interno E quindi È un lavoro di lima Di limatura Continuo Perché le parole Non suonano come devono Però non è stato particolarmente Faticoso Forse anche perché erano parole Che erano pronti per uscire E quando sono pronti per uscire Non so Ti trovi in alto Che guidi E ti devi fermare di colpo Perché hai la canzone Che sta uscendo Fogliettino È un po' quella cosa lì Non è che ti metti alla schivania A cercare le parole O a consultare dei libri O andare sui dizionari Le parole escono Le devi solo Sistemare un attimo Il libro ha una complessità Molto più grande Un po' perché Quando cominci a scrivere Non sai mai Io perlomeno Non so mai dove andrò a finire E quindi segui questa scrittura Cerchi di indirizzarla Ma in realtà È poi lei che indirizza te Però richiede Molto più attenzione Devi Avere tutta la materia In mano Dall'inizio alla fine Non è che ci possano essere Delle incongruenze Una canzone È una canzone Anche se devi tenere conto Di un album intero Ogni canzone È una storia a sé stante Ti vorrei chiedere una cosa Una canzone La canti tu giusto? Beh, cantare è un po' Molto elogiativo Diciamo che io la interpreto Come mai hai trovato la forza Di usare la tua voce? Beh, fa parte di questo processo Di crescita Ma a dire la verità Queste sono parole molto pesanti Credo pesantissime Forse le più pesanti dell'album E non avrei avuto il coraggio Di proporle a qualcun altro Perché Questa canzone parla Non è neanche Tra le varie sconfitte Dalla nostra epoca Io credo che ci sia quella Tra i genitori e i figli Non l'abbiamo sperimentata tutti Non è una canzone personale Voglio insistere su questo Però mi è capitata Di sperimentare tante volte Questa situazione In me e in altri Siamo ben oltre Il conflitto edipico classico In cui si vuole uccidere il padre E giacere con la madre Quello che dice questa canzone In sostanza Che il padre Non si vuole neanche più uccidere È un padre da disprezzare La sua vecchiaia Non porta alcuna saggezza È un padre Che non si considera assolutamente La madre Con la madre Non c'è nessuna possibilità Di rapporto fisico Di nessun tipo Che un semplice tocco Né si è mai toccati Da questa madre C'è un'intangibilità assoluta E questo è Altro che sconfitta La madre è quella Che ci ha toccato per primo Nella nostra vita Questa canzone Porta queste parole Che sono molto pesanti Credo Bisognava che le dicessi io E adesso cosa pensi di fare Da qui in poi? Oddio Oddio ci sono tante cose Che si possono fare Se devo pensare solo a quelle pubbliche La prima cosa che vado a fare Comincerà la prossima settimana Ed è un tour di presentazione Di sorella sconfitta Però non è un tour musicato Si chiama Sorella sconfitta guida all'ausculto L'ausculto è un po' diverso dall'ascolto È un ascolto che si fa con il cuore Molto più che con l'orecchia Per cui mi trovo in teatri, locali Cinema, posti del genere In cui si può stare al buio In silenzio Con il pubblico seduto Comodo E ascoltiamo il cd insieme Che è la cosa più imbarazzante del mondo Per superare questo imbarazzo Perché queste cose Non si fanno più Non siamo più negli anni settanta Abbiamo prodotto un filmato Insieme alla Fandango Che dura tanto quanto il cd E verrà proiettato alle mie spalle E questo filmato servirà a parte Per catturare gli occhi In realtà è una specie di alibi sociale Per riuscire a stare insieme in silenzio Perché è una cosa che Non si conviene adesso Io poi inserterò questo silenzio E questo ascolto Con delle parole Che aiutano a entrare Nel nascosto delle canzoni Poche parole però Credo, spero Molto incisive Che dovrebbero Dare la suggestione Di che cosa c'è dietro la canzone Troverai anche la forza Di andare su un palco Con tutte e quattro L'interprete di più avanti Oppure no? La vera forza Non sarebbe andare sul palco Ma sarebbe convincerle tutte e quattro Questo è uno sforzo Veramente in mane Ma confido di farcela In parte Perché Se ne comincia a sentire le esigenze Ci sono tante richieste È chiaro che una Lali abita a Torino Nada Abita ovunque Perché sta traslocando Andrà in Maremma Fiamma E Marina Parente Abitano vicino a Reggio È già molto difficile Mettere insieme questo quadro Però mi piacerebbe molto Fare un concerto dal vivo Perché la grande differenza Quello che manca davvero Ad esempio a questa guida All'ausculto È il corpo emozionato Come si chiama Quando tu sei in concerto Al di là della razionalità Al di là che le canzoni Sono sempre quelle Non sono in moto Solo le orecchie o le mani È tutto il corpo Che si emoziona Perché hai uno scambio di energia Molto forte con il pubblico E quindi questo mi manca molto Vorrei averlo Non prima dell'autunno Sicuramente Ci vuole un po' di tempo Per mettere in piedi queste cose Ecco Hai fatto questo primo album Che è stato un po' una scommessa Forse Dopo due libri Pubblicati sempre per Fandango Uno giunti L'altro Fandango Cosa pensi Di che panni vestirai in futuro? Quelli di musicista O quelli di scrittore? Ma io posto abbastanza bene In tutti questi panni Perché Sto scrivendo un altro libro Che se fossi abbastanza bravo Uscirebbe in settembre Ma penso di non farcela Con i tempi Ed è un libro Che dovrebbe uscire Per la Mondadori Si chiama Il mio primo dopoguerra E sono cronache dalle macerie Praticamente Sono racconti Fatti camminando sulle macerie Di Berlino Ovest Di Mostar E di Beirut Che sono tre città Che ho visto nel loro dopoguerra E sono i racconti I pensieri Derivati da quel camminare Su quelle macerie In realtà è anche la scoperta Che attorno a noi Esiste la storia E cominci a vent'anni Che magari hai una vaga percezione Di questo Con una formazione scolastica Che ti aiuta in tutto Tranne che farti capire questo Per cui sono arrivato a Berlino Che avevo 20-22 anni Non capivo assolutamente niente Non sapevo neanche dove era Berlino Avevo una vaga idea Che la città fosse divisa in due Ma non in quel modo Non sapevo assolutamente Che cosa aveva portato A quella divisione Che cosa voleva dire Avevo un'idea molto vaga Di un est E di un ovest E di cosa mi piaceva Ma assolutamente Non supportato dai fatti E con un'assoluta incoscienza storica In realtà Queste cronache dalle macerie E i successivi pensieri Mi hanno portato a capire Che l'uomo è obbligato alla storia E condannato alla storia Noi non siamo esenti da questo E questo libro riporta questi pensieri Nel tuo passato Comunque come musicista Sei stato in un gruppo Che è stato prima in classifica E hai avuto comunque Veramente molte soddisfazioni Ti manca quel Diciamo essere sotto i riflettori In un certo aspetto Comunque quello che La grossa discografia Permette di fare Oppure comunque La scelta anche di fare Di essere in fandango Comunque un'etichetta In un certo senso neonato Comunque che non fa parte Della grossa distribuzione Non è casuale C'è voluta Ma io Di mia natura Mi trovo bene sotto Un segno minore Non tanto sotto segno maggiore Questo non mi piace Ma è molto pesato Ad esempio credo che Uno dei motivi principali Perché sono sciolti i CSI E appunto Perché erano andati in classifica Un giorno Al primo posto Un luogo assolutamente Non loro In cui siamo capitati per caso E che ci ha frantumato Per bene Come meritavamo Io non aspiro Assolutamente a quello Anzi Ne ho molto paura Ma fortunatamente Faccio delle canzoni Che so già Che mi garantiranno Non è matematicamente impossibile Che arrivi mai lì Per incapacità mia Ma non è un posto che frequenterei Molto Anzi E Non è tanto quello In realtà È molto bello quando il tuo lavoro Viene riconosciuto No? Ma questo Se dovessi essere sincero Che siano dieci o cento o mille le persone Non è che mi interessi tanto Un po' perché sono mio E quindi io ne vedo comunque Sempre dieci E non c'è niente da fare La moltitudine Proprio non riesco a vederla fisicamente Un po' perché Non è che ti porti tanto di più Mi piace molto di più questo giro Ad esempio di presentazioni del libro Anche questa guida all'ausculto Perché ti porta davanti A cinquanta, sessanta, cento persone Con cui hai uno scambio molto più approfondito Molto più capace di darti delle cose Non è tutto qua Perché poi dicevamo C'è anche questo aspetto del corpo emozionato Dove se le persone sono diecimila E saltano e ballano e urlano Anche questo è fortemente piacevole Tu rispetto a quello che fai Quello che scrivi O quello che diciamo componi Hai avuto la possibilità Di avere sia dei lettori Che degli ascoltatori Che differenza trovi Quando nelle persone Quando parlano di quello che scrivi E di quello che invece componi Beh, con la scrittura Si crea un rapporto molto intimo Perché chi ti legge Ti deve innanzitutto Dedicare moltissimo tempo Se vuole arrivare alla fine del libro Perché un cd lo ascolti anche Schippandolo in auto in cinque minuti Puoi decidere se è il tuo cd o no Però poi Ti consente un ascolto molto veloce Insomma Un libro Io non credo che tu possa avere l'idea Di un libro in tre pagine Ti può anche capitare questo Però insomma Se lo apprezzi davvero Il libro ci arrivi in fondo E sono giorni e giorni di lettura O anche di rilettura E Sono due rapporti molto belli Perché in realtà Poi mi rendo conto Che la musica Ha un valore così profondo Nella nostra vita quotidiana Molto più della lettura Ricevo molti più segnali Da questo cd Che non dai libri Ma non è un problema quantitativo Ma è proprio di incidenza Nella vita degli altri In un certo senso Molti più persone Mi dicono che gli ha Che gli serve il cd Rispetto al libro Ma io non credo Che sia un problema di qualità Dell'uno rispetto all'altro È proprio il mezzo di trasmissione Delle idee che cambia Il cd è capace di arrivare Più in profondità Nell'immediato Invece credo che il libro Nei tempi lunghi Abbia molto più capacità Di scavare C'è una cosa Che è abbastanza strana Quando hai appunto Avuto dei gruppi Comunque altre formazioni C'era comunque Un rapporto stretto Con la politica Con quelle che sono Delle dinamiche Di intervento anche sociale Più o meno diretto Con i tuoi libri E con quest'ultimo album È come se avessi fatto Un percorso sempre Di più introspettivo Sulle persone Sugli uomini Non tanto Dipendentemente Da quelle che sono posizioni Da quelle che sono ideologie Ma proprio quello che sono Sensazioni interiori Scontri con la realtà Dinamiche comunque Di comunicazione Ho trovato Un forte distacco Da certe tematiche E perché Tu sei sempre stato così Oppure perché Hai orientato La tua vita Verso questa ricerca Beh noi Dobbiamo anche Stare attenti Perché dalle volte poi Voglio dire Io non credo che I CSI fosse un gruppo politico Assolutamente In realtà Nessuna canzone dei CSI A parte un grosso pensiero Sulla guerra in Jugoslavia Però probabilmente Non è l'idea di politica Che stavi dicendo tu Quella in realtà Era più un discorso Sull'uomo Anche quella I CCGP No erano nati Per statuto Su un'idea politica Ma anche questa Non era un'idea Un'idea politica Un po' distorta Era quasi più Un'idea di equilibrio Visto che il mondo Va tutto da un'altra parte Noi veniamo dall'Emilia Il mondo che interessa Studiare a noi E quell'altro Quello che sta al di là Delle cortine E quindi noi ci chiamiamo così E andiamo a vedere Che cosa vuol dire chiamarsi così Lo che penso adesso in realtà E che a me sembrano Molto più politici Per come li intendo io Questi testi Che non quelli precedenti Perché in realtà Io credo che da certi punti di vista Quando noi andiamo a approfondire La nostra singola umanità In realtà Se la approfondiamo veramente Con onestà Arriviamo a toccare l'umanità Di tutti gli altri E già questo per me È una grande idea È una grande idea di politica vera Che non è Non è come dire Non è sloganistica Non me ne rendo conto Però è capace di toccare Un qualcosa che ci lega davvero E che fa alla base Della nostra socialità In fin dei conti Una canzone come Un blu di Prussia Che parla dei rapporti con i genitori Come dicevamo prima Ultimo vol America Che non è una canzone sloganistica Anche se è una canzone anti americana Sorella sconfitta Secondo me sono tutte interpretazioni Della politica Da un altro punto di vista Sì molto più difficile Perché comunque nel campo musicale Soprattutto quella che è la politica Diciamo più così più bassa Cioè comunque prendere una posizione Molte volte molto netta Molto decisa vantaggia Cioè ti fare per una squadra E diciamo in questi testi Comunque non c'è quest'aria Cioè è una squadra Che fa più parte dei uomini Rispetto a una squadra di È così Perché la squadra con cui gioco io È quella degli uomini Come hai detto giustamente Tu non volevo cercare La parte È molto È anche molto facile Ad esempio Ultimo vol America È una canzone Che poteva diventare Una canzone di protesta Ma secondo me era Molto sbagliato questo Prima perché ce ne sono anche troppe Di canzoni di protesta Però il problema non è quello Io non sono un cantante di protesta Allora già l'idea Di chiamare Marina Parente Che è una cantante lirica Dava quel tono di Non so come dire Quello stacco Alla canzone Che impedisce di diventare Una canzone di protesta Contro gli Stati Uniti Diventa una canzone di Molto addolorata invece Ed è quello che vorrei comunicare Perché il problema Non è dire Sono contro gli Stati Uniti Sono per questo Sono per quello Questo è fin troppo evidente Secondo me C'è una Non so come dire C'è un'adesione genetica In noi Per lo meno Per lo meno noi che siamo emiliani Io credo che Geneticamente sappiamo Quali sono le parti in gioco Secondo me Non riusciamo a farci fregare Più di tante in questo E dovremmo essere orgogliosi Penso Però non volevo indagare Quell'aspetto lì Volevo capire come mai Una potenza Che si ritiene superiore al mondo Quando può esercitare Superiormente questo potere Anche dal punto di vista morale Come avrebbero potuto fare gli Stati Uniti Con tutta l'adesione Che potevano avere Dopo l'11 settembre Nei loro confronti Hanno deciso di buttare Così pletalmente via Questo potere Che gliene derivava Per avere un Non potere inferiore Come quello che hanno adesso Per avere Superato ogni soglia Di detestabilità Al mondo Questo è una cosa Che mi incuriosisce Molto Tu Parlavi appunto Di emiglianità O comunque di essere geneticamente emigliani Nel tuo ultimo libro Parli appunto Dell'Emilia Di quella che è un Forse una reggio del passato Descrivi E Noi in un certo senso Siamo venuti qua Come abbiamo fatto questa televisione Comunque Cioè con enormi sforzi Anche proprio personali di tempo Senza Alcuno Diciamo Tornaconto economico Siamo voluti tornare in centro storico Per dare vita In un certo senso In questo tuo libro Però il reggio pare come una C'è Il reggio di cui tu parli È un reggio che adesso Non sembra più esserci Com'era quella reggio di una volta Cioè in cui sei cresciuto Ma in realtà Non sono d'accordo su questa cosa Non sono d'accordo perché C'è una trappola disseminata All'inizio del libro Ed è quella reggio di cui tu sta parlando Lo reggio che poteva essere Quella degli anni 70 Mi serviva a partire da lì Perché avevo voglia di stabilire Un punto di contatto Con che leggeva Già già conosciuto Cioè parlare di qualcosa Che tutti quanti già possedavamo Ed era l'idea di quella reggio Che era ancora Fortemente comunista C'era ancora il PC Dove i personaggi di questo libro Sono personaggi che già conoscevamo Perché sono i classici tossici Degli anni 70 Che abbiamo visto in tutte le salse E in tutte le risme Questo mi esentava dal problema Di spiegarli Di raccontare la loro psicologia Di andare a scavare dentro di loro Sono messi lì Quasi come se fossero delle icone Di qualcosa Però di lì il libro scappa via subito In realtà io credo che il libro Rappresenti una reggio futuribile Che deve ancora arrivare E che sta arrivando E fai conti con quella Fai conti con una reggio Già assolutamente multietnica Anzi molto più avanzata Dell'essere multietnico Perché già tutti questi Neri, gialli e rossi che ci sono Parlano già tutto un dialetto reggiano Fatto alla loro maniera Ma nessuno se ne accorge E' già la norma E' quasi un Blade Runner Portata a Reggio Emilia Per cui io penso che sia una reggio Che deve arrivare ancora Invece sono molto stupito Di come normalmente La cultura che tratta dell'Emilia Ancora non veda questi processi Nel senso che mi sembra Che nel nostro occhio concreto Noi vediamo passeggiando per Reggio Qual è la reggio di adesso E' sicuramente molto più colorata Di come era un po' di anni fa Nel nostro occhio profondo Ancora non siamo capaci di questo Vale dire che ancora Quando pensiamo a Reggio Emilia La vediamo con gli occhi di Ghirri Che pur io apprezzo tantissimo Celati Tutta la grande letteratura Scurano anche i grandi film Delle Miglia del Novecento Tutto quel modo di intendere l'Emilia Mi sembra che noi culturalmente Siamo ancora tutti quanti lì E i nostri occhi invece sono più avanti C'è uno stacco che va dai nostri occhi E la nostra cultura ancora Io spero che si colmi molto Alla svelta da questo punto di vista A dire la verità C'è anche una prosecuzione di Miglia Parabolica Che è il libro dedicato alle miglie E' una nuova Emilia Parabolica A cui sta lavorando E sarà un libro a fumetti però Disegnato da Gigi Cavallicocchi Che era il batterista dei CSI Ma in realtà lui è anche un bravissimo disegnatore A fumetti Si sta scoprendo un po' alla volta Anche lui non aveva mai praticato così fortemente il fumetto Però è tutta questa nuova Emilia Che vediamo e che sentiamo Che forse ha bisogno molto più di un'immagine immediata Come il fumetto che non di una scrittura Perché il fumetto contiene tutto Senza che tu lo debba spiegare Invece il libro tante volte ha bisogno di spiegazioni Ha bisogno di... Non c'è niente che tu veda Quindi che tu possa immaginare Chi scrive deve tener conto di quello che non vede Chi legge Il fumetto no, ti dà questa possibilità Hai solo una pagina E lì c'è tutto dentro E anche nei suoi vuoti È capace di raccontare tantissime cose credo Sì, quello che volevo dire prima È il fatto che presenta un'immagine iniziale In cui ci sono... C'è diciamo la scalata Della Torre di San Prospero Adesso Cioè... Per me insomma Penso per molti di noi Comunque è difficile pensare Che comunque un gruppo di giovani Abbia questa follia Cioè non dico reale Cioè è proprio concreta Però comunque sembra quasi Ci sia un blocco sulla città Io lo trovo Lo trovo una città assolutamente morta Da questo punto di vista Non è che non fosse morta In quegli anni Gli anni in cui parli Comincia Libano Che erano quegli anni 70 In realtà erano cose Molto strane all'epoca Queste Però c'era la consapevolezza Di poterlo fare Già uno dei protagonisti del libro Accusa i suoi concittadini Dicendo ma come voi andate A fare dei trekking in Patagonia Andate con il deltaplano Fate... Tutto deve essere pericoloso Tutto deve essere estremo Non c'è nessuno Che abbia mai pensato Andare sulla torre di San Prospero Che la torre della sua città Vedere come si vede La città dall'alto La città è solo quella Che vediamo andando in auto In circovallazione Ci sarà dell'altro E c'è questo altro Bisogna avere il coraggio Anche mentale Di andarlo a cercare Io credo Una volta questi pensieri Si facevano Io adesso non abito più a Reggio Non lo so Ma nessuno ci autorizza a non farli Siamo noi che ci blocchiamo da soli Torniamo all'album Hai scelto di iniziare il tuo primo lavoro Con Sorella sconfitta Che dà anche il nome appunto al CD Come mai un pezzo Che comunque sia quasi una marcia Diciamo un'introduzione appunto A uno stato d'animo A un Comunque anche un'accettazione della sconfitta Perché tutto l'idea del CD nasce da lì No, nasce da queste parole E nasce anche dall'idea Che le dovesse interpretare Lalli Che secondo me lei è una Tra le cantanti italiane più dotate Di capacità tragica nel vero senso Nel senso che Lalli più che cantare interpreta In senso tragico le parole Infatti mi sembra che si sposino molto bene Il testo e la sua capacità interpretativa Perché questo è il manifesto del CD in sostanza Tutto nasce da lì Allora avevo voglia di metterlo davanti subito Una cosa del tuo passato Hai comunque Sei stato nei CSI, nei CCP Come mai adesso hai avuto La fine di questo rapporto Hai avuto un'esplosione Che appunto riprende varie tipologie di espressione Adesso hai detto il fumetto Sei tornato alla musica I testi, alla scrittura Cioè come mai hai avuto questa liberazione Comunque la possibilità di Sperimentare e visitare altri luoghi Rispetto solamente a quello musicale Beh un po' sono diventato più coraggioso Da questo punto di vista E poi anche perché in realtà Quando tu sei in un gruppo Hai una logica di gruppo Che in un Per quanto possa essere grande Importante il gruppo È sempre una logica di ghetto comunque Che ti assegna delle parti molto definite Dalle quali non scappi Non ce la fai proprio Semplicemente Questo è il motivo per cui i gruppi Va a finire che si sciolgono Perché anche se tu vuoi scavare In altre direzioni C'è sempre qualcuno che ti darà Che lì non ci puoi andare Perché la logica del gruppo Consente dei rapporti molto rigidi Non si scappa assolutamente Tant'è vero che non ho mai avuto Nessun desiderio di fare dischi solisti O di scrivere libri un po' Perché non c'era il tempo Ma proprio non c'era neanche l'idea Di volerlo fare Di doverlo fare C'era già quello che c'era Mi bastava ovviamente Poi una volta finito Quel genere di relazione È molto bello cambiare campo Continuamente È molto adatto a me Per come sono io Non vorrei mai fare il musicista Basta Lo scrittore basta Perché sono tutte cose Che si nutrono l'una delle altre È molto bello portarle avanti insieme E poi ti lascia Reinventare continuamente Questo mi piace molto Ecco Ho fatto parlare molto La grafica del cd Sei stato tu a sceglierla Per ieri di questi L'ispirazione diciamo Sono appunto dei capelletti Giusto letto su musica Ma era andato una volta a Modena E mi era capitato di vedere Una mostra di Andrea Chiesi Che aveva già collaborato Con altre Altri Per altre copertine del consorzio Ma poi insomma Con Andrea ci conosciamo da anni Per tanti Per tante collaborazioni anche Perché Quel giorno lui non c'era C'era però Su tutto il pavimento Di questa mostra Queste testoline di cera Fatte da Da Beatrice Pasquali Che è una ragazza di Verona Che abita E lavora a Bologna E mi avevano colpito molto Un po' per il tema Tutte queste piccole teste Mozzate sul pavimento Un po' perché Nessuna di queste teste Era capace di dare Un'idea macabra O orrorifica Che è una cosa Che io detesterei Tra l'altro Anzi Ognuna di queste teste Aveva Un'idea molto umana Forse perché la cera Riporta tutti i pori Tutte le imperfezioni Della pelle Ma ognuna era diversa Dalle altre per qualcosa Tutti assieme Davano un'idea Di una folla Che secondo me Stava molto bene Con l'idea di Sorella sconfitta Tutte persone capaci Di assumersi pienamente Le loro sconfitte Però di andare avanti Lo stesso Era proprio questa Quest'idea di moltitudine E tra l'altro Per come sono fatte Hanno una calottina bianca Smaltata sulla testa Non capisci se sono Visitatori Che vengono dal futuro Non capisci se sono I guerrieri di terracotta Cinesi del passato È difficile posizionarli In un'epoca E allora mi è piaciuto molto Questa ambivalenza E poi una volta conosciuta Beatrice Mi ha dato ancora di più Mi ha rafforzato l'idea Perché neanche lei Ha mai avuto un'idea macabra Rispetto a queste testa Non sono teste tagliate Sono persone che hanno Solo la testa Ma è un'altra cosa E poi lei Che aveva delle smagne Da casalinga irrisolta Le metteva tutte Sul pavimento Come se fossero tanti Cappelletti o tortelli Sui taglieri Delle massaie emiliane Anche i colori Più o meno sono quelle E mi piaceva molto Quest'idea di serialità Però portata Non alle macchine Non ai bulloni Tutti in fila Proprio al cappelletto E al tortello La sconfitta Diciamo che vediamo In tempi non Un po' incerti Un po' particolari Forse diciamo Ogni epoca Le sue sconfitte Ma le sconfitte Di quest'epoca Hai detto prima Che sono quelle Di cui parli qua sotto Anche i rapporti Con i genitori Ma quali sono le altre sconfitte? Tantissime In realtà tutto il CD È anche così vario Perché ho cercato Di affrontarne tante Questa di Blu di Prussia Quella con i genitori È uno degli aspetti Ma sicuramente Non è solo quello Ultimo Volo America Parla di questa Di quest'idea Di guerre preventive Parla di questa idea Di potenza mondiale Che non è capace Neanche di alimentarsi Di se stessi In sostanza Parla di Di un mondo Che va avanti Con le sue sconfitte Da solo parla Di una sconfitta molto privata Di una Anche miccia prende fuoco Sono persone Sono sconfitti Di una persona fisica Che scopre di avere Un corpo clinico Non un corpo da toccare Ma un corpo che è quasi Sezionato In muscoli inapparati E cose del genere Su Di Giri Racconta di Di come non basti odiare Ci sono 140 motivi Per odiare 150 ragioni Per Non mi ricordo Anche più il testo Di rancore 150 ragioni Per odiare Ma al di là di questa Numerazione Quasi una contabilità No Di queste ragioni Non basta Perché in realtà Quello che succede odiando È il male Che ricevi Non è tanto Non è niente di più E quindi cerca di esplorare Quella Quell'aspetto Poi ci sono altre cose Ci sono Dolorama È una canzone A cui tengo molto Perché Dice Troppo altra Per capire L'esperienza del dolore Troppo altra E noi Quando noi Vediamo l'esperienza Del dolore Delle altre persone La vediamo per la televisione Sui giornali Ci può coinvolgere Ci può colpire Molto profondamente Però è altra Non ci tocca poi più di tanto Ormai ci stiamo abituando Alla sofferenza Che ha un velo davanti Rispetto a noi Non la tocchiamo più È veramente altra E questa È una sconfitta Ancora più grande E d'altra parte però La canzone finisce dicendo Che c'è una dittatura Da parte della vita Che ci chiama a dimenticare Ci chiama a dimenticare Il dolore degli altri Perché la vita comunque Si alimenta continuamente Di se stessa E del dolore In sostanza È disponibile a scordarla Lasciarla andare In onore In ragioni di una vita Che vuole continuare assolutamente La canzone finisce dicendo Noi ci salveremo È quello che pensa ognuno di noi Il dolore è sempre degli altri Perché comunque Una intima piccola parte di noi Pensa Io intanto Mi salverò È una delle illusioni ovviamente Che manda avanti Il nostro mondo Dopo questo inizio Comunque Dopo i primi Prima recensioni positive Rispetto comunque Anche positive delle vendite Stai già iniziando A scrivere altre canzoni Oppure no? No, no Veramente Non suono la chitarra Da quasi un anno Da quando ho finito il cd Non so neanche dov'è Dio la verità Ma perché Sto scrivendo questo libro Sul dopoguerra Poi dopo Ho dovuto mettere insieme Il tour di Sorella sconfitta Poi ci vuole anche un po' di tempo davanti Ho già l'idea del cd Ho anche alcune canzoni Scritte in testa Ma non ancora musicate Vorrei fare un'altra Specie di meditazione Una successiva Sorella sconfitta E ho l'idea che questo cd Vorrei Perché quando trovo il titolo Dopo esce tutto il resto Il titolo potrebbe essere L'inerme è l'imbattibile Cioè capire come Forse il vero imbattibile al mondo È l'inerme Non è il forte Allora sto ragionando su questo tema E sto Un po' alla volta stanno cominciando A uscire un po' le canzoni Le parole Che vorrei abbinare a questa Quindi anche in questo caso Era nata come Sorella sconfitta E dopo hai Sì perché io Non è che abbia tanto la smagna Di fare delle canzoni Per sentire Suonare delle note Ho bisogno di Cioè voglio dire La musica per me È un mezzo per trasmettere Non un messaggio sicuramente Però per trasmettere un'idea Quest'idea era Sorella sconfitta La prossima è un'idea Che riguarda gli inermi E quindi è una specie di meditazione Potrebbe essere fatta anche scrivendo Però è molto meglio fatta suonando secondo me Anche perché la musica alleggerisce notevolmente Questi contenuti Te li portano con molta più facilità Non avrei voluto fare un trattato Pesantissimo sull'idea di sconfitta Sarebbe stato veramente uno strazio secondo me Una cosa C'è il pubblico in sala Vuole fare qualche domanda a qualcuno? Qualche curiosità? No Allora dunque Nel tuo passato musicale Hai dovuto comunque Bene o male comunque affrontare Turo un po' ovunque Da Jugoslavia Siete andati con il CCP Ma Mosca Avete comunque viaggiato parecchio Come mai questo ritorno anche di scrittura Sul tuo passato Sui viaggi Beh perché viaggiare mi è sempre piaciuto molto Ma in realtà non sono tanti viaggi Che uno fa per riposarsi O le vacanze O cose del genere Sono alcuni viaggi che hanno determinato La mia vita Come credo che succeda a ognuno di noi Quel viaggio ti ha cambiato comunque Allora Per me è arrivata l'ora di capire E di ragionare attorno a quel cambiamento Andare a Berlino sicuramente ha cambiato la mia vita Come andare in Mongolia Come andare a Mostar E come andare anche a Berlino in un certo senso Allora avevo voglia di ragionare Quali sono state le rotture Che hanno determinato quei viaggi E che cosa è nato da lì Io credo che La maggior parte della creatività Nasca dallo spiazzamento sempre Non dalla consuetudine Non è che tu ti chiudi in casa E lì esce qualcosa Perché è già tutto nella tua testa Io credo che Quando c'è un momento di rottura forte Con il tuo consuetudinario Con il tuo tran tran Per quanto altro possa essere Come può essere stato andare a Mostar O a Mosca O anche a Berlino Insomma Lì succede qualcosa Che magari andrai a razionalizzare Negli anni successivi Però succede qualcosa E se tu non soffochi quel qualcosa Allora la tua vita cambia È bello anche capire Che cosa è successo Che quanto ha inciso Come mai Perché questo Se capisci questo Ti lascia aperto le porte Per il gradino successivo Quindi il vero problema Secondo me È cercare di Mantenere quella disponibilità Non tanto di testa Ma anche di vita concreta Che quando c'è Una situazione di richiamo Tu possa rispondere E accettarla Questo è una cosa Che secondo me Vale la pena di coltivare Due domande Se c'è un viaggio Che l'ha cambiato la vita E poi come mai Diciamo invece La fase di scrittura Quindi o musicale Oppure testuale Invece che avvenire Fuori da Reggio Comunque avviene Quando sei Su a casa tua in montagna Beh per condizioni Di vita normali In realtà ad esempio Il libro sulla Mongolia È stato scritto Quasi tutto sul furgoncino Che ci portava in giro Per la Mongolia Poi delle volte Anche gli scritti di Mostar Sono nati quasi tutti a Mostar Quelli di Berlino no Semplicemente Perché non sapevo neanche Di poter scrivere all'epoca E poi qua con uno sforzo Di memoria E un po' di documenti Mi è tornato fuori Tutto quanto Le facce I nomi Le persone Gli avvenimenti I pensieri di allora I pensieri di adesso Ma io vedo poi La casa come il momento In cui tu Hai Il posto in cui Ti metti Per ritirare Quasi Ruminare Come fanno Le mucche Ruminare delle cose Che tu hai già digerito Una volta Le rumine Le butti fuori Nella forma dovuta C'è qualche domanda Oppure no dal pubblico Per adesso Per adesso Per adesso Per adesso Per adesso La sconfitta Ma la sconfitta È sorella Per un motivo preciso? Beh ci sono Beh ci sono Questo noi L'abbiamo visto In tanti altri Quante persone Sono atterrate Completamente Dalla loro sconfitta Anche quanti popoli Sono atterrati Dalle loro sconfitte O quante persone Vivono sui marciapiedi E non hanno nessun modo Di poter uscire Dalla loro condizione Di sconfitta Assoluta Tanto da perdere Il nome Il cognome L'identità Da non essere visti Diventano persone invisibili A tutti gli effetti O popoli invisibili Ci sono interi popoli Che si trovano In questa condizione Sono assolutamente fuori Dal consorzio umano Sono delle vittime Per tutti Non c'è nessuno Che si interessa Alla loro sorte Ci sono altri popoli Invece che sono Fortemente all'interno Del consorzio umano E sono molto visibili Anche se Sono in situazioni Di guerra O di Come dire Di instabilità Totale Sono visti Da tutti Allora La sconfitta Da cui non esci mai È assolutamente terribile Ti toglie La tua umanità Nel senso vero Della parola Ci sono delle sconfitte Da cui invece Ci si può saltare fuori Accettandole Io credo Facendo diventare La sconfitta Una tua sorella Quasi nel senso Quasi francescano Del termine Accettandola Come una compagna di strada Accettandola Come qualcuno Qualcosa Che ti può dare Un insegnamento Quando cerchi di combatterla Con la forza Con l'astinazione Di solito Non salta mai fuori niente Di accettarla Se sei fortunato Puoi trarne molto Se non sei fortunato Invece Starai anche tu Sul marciapiede Come tutti gli altri Però Qualche altra domanda? Grazie Ora vorrei concludere Per cominciare da lì In qualsiasi In qualsiasi Si trova Sento Sento Questa è una domanda Tradimento In seguito In qualsiasi Però Allo stesso tempo Mi sembra che gli italiani Abbiamo una grossa forza Forza d'animo Un po' perché vivono lo stesso Indifferentemente La loro vita Nonostante È tutto quello che ci stanno propinando E già questo è un ottimo segno Secondo me È una persona che non considero assolutamente Eppure so che esiste Che determina la mia vita Appunto come dicevamo prima Noi siamo condannati alla storia Quindi siamo condannati anche Alla storia che ci impone Berlusconi Allo stesso modo però Sento un grosso bisogno di chiarezza Per cui questi polveroni In cui ad esempio Si fanno le manifestazioni congiunte Io non li condivido assolutamente Perché mi sembra che Il nemico sia tra noi E dobbiamo essere molto chiari su questo Il nemico non è solo Sicuramente terroristi Come vengono chiamati Anche se sono quelle parole Come una volta si dicevano i drogati Sono quei termini fantomatici Il nemico attuale si chiama terrorista Una volta c'erano gli zingari Prima c'erano gli ebrei Quindi ci teniamo anche questi Siamo abituati anche a questo Allo stesso tempo Abbiamo i nemici in casa E bisogna che noi questi nemici Diamo un nome e un cognome Secondo me E sappiamo chi sono E sappiamo che fanno il loro mestiere Molto meglio di come noi Non facciamo il nostro E per la situazione Locale non saprei veramente cosa dire Io fortunatamente Sono traslocato in un comune molto piccolo Che apprezzo molto Mi sembra molto capace di gestirsi Non so assolutamente niente Della situazione raggiana Ma insomma Questo non è molto grave Io ho una domanda da fare Il discorso appunto Della parola del termine sconfitta Tu hai detto prima Sconfitta Combatterla serve Ti porta a restare Firmoli insomma Non andrà male Iniziavano a capire Invece Hai detto a qualcuno Adesso hai dato un termine Di accettare Di accettarla Sì Di accettarla E' più facile Come si dice Tra le vantaggi Diciamo Di insegnamenti Sì Ma adesso questa è Hai dato una frase Ovviamente c'è una frecchia Un attimino E' difficile approfondire Beh adesso sai Poi si rischia sempre Di generalizzare Sto leggendo E sto cercando Di capire meglio Diciamo Certe cose Nella vita Nell'interno dell'essere umano E così E non lo so Hai fatto di combatterla Secondo me Sono tutte e due le cose Da mettere in discussione Ma secondo me Adesso poi sai Si rischia sempre di generalizzare Anche no Su queste cose E combatterla Adesso Però non è che sia certa Di questo eh Cioè Questo è un dilemma antico Come l'uomo Cioè Amleto Amleto si chiedeva Se era il caso di Accettare una qualsiasi cosa Vuoi dire No? Accettare la sconfitta Accettare anche altre cose Per far riflettere Per approfondire meglio certi Ma io per esperienza personale Mi sono reso conto che Continuare a contrastarla Fortemente La sconfitta La sconfitta In realtà Non portava niente Da un po' di tempo Da un po' di tempo Un po' Era spaccato in due Da una parte i croati E dall'altra i bosniaci I croati avevano vinto la guerra E si erano impossessati Della parte est Della città Della parte ovest Della parte più brutta Tra l'altro I bosniaci avevano perso Erano stati massacrati Erano riusciti a tenersi Il centro storico Dove erano sempre vissuti Abbiamo suonato Chiamati dai croati Nel loro stadio Era lo stadio Che loro usavano Come campo di concentramento Durante la guerra Era due o tre anni prima E loro prevedevano La loro propaganda Prevedeva Che sarebbero state 30.000 persone presenti Per questo concerto Che era il primo concerto a Mostar Perché pensavano Che sarebbe stato Come un celebrare La loro vittoria Era la prima occasione pubblica Per cui un gruppo europeo Andava da loro A risollevare La loro città Al concerto non c'era nessuno C'erano 10 bambini Che giocavano a pallone E basta Non c'era un solo croato Che non fosse un organizzatore Quindi 10 persone Perché allora Avevano vinto la guerra Ma avevano perso tutto il resto Vincendo la guerra Questa loro vittoria L'aveva spezzata completamente Erano tutti in casa A guardare la televisione Con l'antenna parabolica Non si parlavano più Tra di loro Non uscivano per strada Guardavano la partita E basta Facevano solo quello I bosniaci Che avevano perso la guerra Erano morti in 3.000 In città C'erano tutti cimiteri Sparsi nei giardini pubblici Al contrario Non avevano nient'altro Che potersi ritrovare E ricostruire la loro vita Completamente La loro socialità Per cui Senza che nessuno Li avesse mai convocati Senza che nessuno L'avesse mai fatto balenare L'idea di un concerto Dalla loro parte Sono usciti tutti di casa E la piazza Dove sono avanti Era strapiena Di tutte le età possibili Perché per loro L'unico modo Per uscire Dalla sconfitta Era rinascere Gli altri Non sono stati capaci Di uscire Dalla vittoria Grazie Noi chiudiamo la trasmissione Così continuiamo qua in sala Perché così Concludiamo diciamo il programma Perché altro Va bene Io faccio anch'io degli auguri A voi Di buona continuazione La facciamo dopo Però senza registrato No vabbè scusa se sei qua Ne approfitto No Un'altra domanda Tradimento No no Io non so tu Che conoscenza abbia Delle tv di strada La situazione Adesso Forse non sapevi Che esistevano Nel mio Comunque Ne hai vista una Con i tuoi occhi Quindi ti La mia domanda è questa Tu sei stato Alle radici Del punk In Italia O possiamo dire Forse anche in Europa E Mi ricordo questa frase Non vorrei banalizzare Però vabbè La cito Che era In sostanza Quello che mi interessa È l'anima di chi suona Dallo strumento E non la qualità Del suono Che era Cioè Rimembranza di Live in punk Per quel che hai visto Qua dentro Ci può essere Qualche nesso Con le tv di strada Appunto O quindi Fanculo Qualsiasi Parametro di qualità Quello che conta Il contenuto O Una segna mentale Beh no Sono tutte queste cose Insieme Credo Quando noi abbiamo Cominciato a suonare Avevamo la grande fortuna Che era appena uscito Il punk Che In sostanza Diceva Tu suona Perché suonare È un'urgenza Allora tu suona Poi ti porrà il problema Se sai suonare o no Ma non è tanto Non è il problema Di saper suonare Il problema È di avere un'urgenza Da esporre Se questa è la vostra urgenza Io non mi porrei Dei grandi problemi tecnici Teniamo presente Di non imporre sofferenza Agli altri Neanche a voi Cioè Io ho visto tantissimi Concerti punk In cui Chi suonava Era una situazione Di sofferenza totale Chi ascoltava Era una situazione Di sofferenza totale Allora ragazzi Troviamoci attorno a un tavolo Esprimiamo le nostre urgenze Davanti a una bottiglia di vino Perché delle volte Veramente È durissima Per cui Visto che Ma adesso La tecnica è molto A nostra disposizione A parte che non funziona niente Non c'è nessun macchinario Di quelli che io sto comprando Che funziona Però tutto è molto agevole Tutto costa molto Ma molto meno di una volta Per cui Secondo me Un piccolo sforzo Di volontà sulla tecnica Potrebbe aiutare Da questo punto di vista Non sto parlando di voi Sto parlando in generale Naturalmente Però cose che erano impensabili 15 anni fa O 20 anni fa Prodursi dei filmati O Registrare dei cd interi In casa Questo è assolutamente impensabile Ci volevano molti più soldi E molti più mezzi Adesso in realtà Sono molto alla portata di mano Ma il problema Non è tanto quello Quanto le idee Che vanno poi a riempire Questi mezzi ovviamente Grazie Poi c'è un problema Io non so se Ho un'idea molto negativa Della televisione Posso anche immaginare Le potenzialità positive Che ha la televisione Però visto che nessuno Me l'ha mai dimostrata E da quando esiste la televisione Escono soltanto Le potenzialità negative Comincio a pensare Che il mezzo di per sé Non sia granché Aspetto che qualcuno Me lo dimostri Magari sarete voi Magari uscirà Una televisione meravigliosa Però Onestamente È sempre più una trappola La televisione Io non so se voi Sarete capaci Di uscire da questo Ma questo è al di là di voi Perché credo che proprio Sia il mezzo Che ha qualcosa Che non funziona Vediamo se hai il coraggio Di concludere Posso fare una domanda Sulla qualità Se hai parlato di Monster Poi bisogna Per far sentire La voce Un attimo Visto che hai parlato di Monster Proprio oggi Sul giornale Visto che diciamo così Noi ci riconosciamo Più o meno Nella sinistra Nella tradizione Nella sinistra italiana Una cosa che non Veramente Che mi ha pesato molto Come uomo di sinistra È stato Ne ricorre Il quinquennale Insomma In questi giorni L'attacco Della Nato In Kosovo E leggo per l'appunto Che comunque Le conflittualità Tra serbi E albanesi Kosovari Da un lato Servi e Kosovari Da un lato Insomma Si stanno Riaccendendo Tu hai Avuto Cioè La situazione Ecco una domanda Che forse Non so nemmeno Ma la situazione In Yugoslavia Rispetto alla convivenza Tra le diverse etnie Com'è E soprattutto Com'è Pensi che Il fatto Io In effetti Dal 99 ad oggi Ho avuto Che cosa scende Dal 99 ad oggi Ho avuto Una sensazione Insomma Che In quel momento Dove Vi erano comunque Delle conflittualità Di ragioni etniche Culturali Religiose Che si ripresentano Più o meno Con le stesse modalità Anche se In forme differenti Nel terrorismo Odierno Dove c'è Tu dicevi Per l'appunto Che abbiamo La necessità Di trovare Sempre Un nemico Ed è una caratteristica Per esempio Del fondamentalismo Cioè quella Di avere Un avversario Da individuare Così come Avevamo gli ebrei Oggi Noi occidentali Probabilmente Abbiamo il terrorismo Come forma In cui il nostro fondamentalismo Che tutto ingloba Che tutto Vorrebbe uguale Per esempio La sconfitta Che non è un termine Giustamente Come dicevi te Che fa parte Della nostra cultura È una domanda Un po' complicata Me ne rendo conto Però Insomma È una domanda Che Persegue anche Il filo del senso Rispetto se Oggi Visto che La sinistra italiana Ha governato nel 99 Oggi più o meno Abbiamo Così L'urgenza Di ritornare A governare Questo paese Può trovare Un senso Un significato Oggi Essere Governare Da sinistra E avere anche Il coraggio Di non Adeguarsi Ad un modello Come è quello Per esempio Della Nato Che ci faceva Identificare addirittura Un intervento militare Come necessario Sponsorizzato Anche come un intervento Umanitario Quando in effetti Quelle manifestazioni Di intolleranza Di odio etnico Oggi sono Ancora presenti In quel paese In quella nazione L'hai detto anche tu Che è una domanda Molto complessa Per cui cercherò Di cavarmene al meglio Ma io penso Se parliamo di fondamentalismo In realtà penso che Il nostro fondamentalismo È molto peggiore Di quello degli altri Perché in realtà Il nostro fondamentalismo Non è capace Di riconoscersi Come tale Noi comunque Siamo abituati In quanto europei In particolare Ma in quanto occidentali Come secondo gradino A essere noi A determinare le regole Al mondo Noi consideriamo Noi stessi Il punto di riferimento Siamo tolemaici Da questo punto di vista Noi siamo noi Gli altri Devono girare attorno Però non siamo capaci Di riconoscerlo Questo Non lo comprendiamo Culturalmente Quanto possa essere Fondamentalista Questa nostra maniera Di vedere il mondo Gli altri fondamentalisti Se non altro Si presentano come tali E questa è un'onestà maggiore Dal mio punto di vista Questo non vuol dire Che io li apprezzi Assolutamente Anzi Penso che le conquiste Che il nostro mondo Abbia fornito A noi che ci abitiamo Siano assolutamente Vitali Siano quelle che ci fanno Anche solo essere qua oggi A chiacchierare Noi sappiamo Che ceneremo questa sera Faremo colazione domattina E questo È un dato Assolutamente straordinario Da quando esiste L'uomo Questa possibilità Non è data Se non negli ultimi 50 anni Nel nostro mondo Che poi questa possibilità Sia data Perché noi imponiamo La nostra forza A tutto il resto del mondo Sono assolutamente D'accordo Però voglio dire Non scordiamocelo Per lo meno Per quello che riguarda Noi E tra l'altro Non riguarda Solo i nostri governanti Riguarda noi Proprio come cittadini Poi ci sono anche I cittadini di serie Z Che non usufruiscono Di questo E lo sappiamo Però la stragrande maggioranza Della nostra popolazione Ne usufruisce Usufruisce Di questi benefici Dopodiché Sapere se Cosa vuol dire Governare da sinistra Io questo non lo so Perché sono termini Che comincia a fare Molta confusione Anche Voglio dire Se noi siamo capaci Di definirci Solo in virtù Dei nostri nemici Questa è una cosa Che sono capace Di accettare Perché L'unico che è capace Di dirci Chi siamo noi Sembra essere Berlusconi In fin dei conti Perché gli altri Noi stessi Non lo sappiamo dire Si rischia di dire Delle cose Molto moralizzanti Molto moralizzate Molto moralizzanti